Secondo me, al di là del primo gol che diciamo ha condizionato la partita, ma anche il secondo è abbastanza grave da rivedere bene, perché come si vede dalle immagini ci sta prima un fallo di mano, ma poi una spinta su Michele che sta nettamente avanti, in anticipo di testa. Io ho fatto due partite in trasferta, quella di Cava e Tirreni, questa di Portuguaro c'è una grande differenza, magari a Cava non siamo stati brillanti come lo siamo stati ieri, perché ieri prima dell'espulsione dell'episodio abbiamo giocato solo un'ottima partita. Come ti stai integrando nel gruppo Bianco-Rosso? Integrato bene, benissimo, questo ci tengo molto anche a ringraziare tutti quanti, dalla società, dai miei compagni di squadra che mi hanno dato subito la possibilità di inserirmi, quando arrivi a gennaio in corsi in un gruppo già collaudato come questo qua della mia squadra e non era facile inserirsi, loro mi hanno subito messo a mio agio, come giocatore li conoscevo più e meno tutti per averli incontrati da avversari, qualcuno ci avevo giocati insieme come Regonesi e Tulli, abbiamo giocato a San Beneteo e all'Effe, gli altri li avevamo incontrati da avversari, poi mi hanno dato tutti la possibilità di inserirmi e questo mi ha fatto molto piacere, ho conosciuto, ho la fortuna di stare con dei ragazzi veramente in gamba. I play-off sì sono a quattro punti, come ho detto prima, dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, però le squadre neanche ci stanno diciamo, squadre a mazza campionata a parte il Verona non ci sono, quindi penso che la lotta di play-off fino alla fine è ancora aperta, quindi è dura, è normale che noi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile e cerchiamo di arrivarci.